Ciao sono Gorkenji e oggi continuiamo a scrivere Unlimited Ok Ho preso la rastellina L'ho rifatta E mi è riuscita Ora vediamo un po' cosa ci mancava Allora Quello là, lassù Cosa chiedeva? Trovo la mappa del tesoro e poi... Ah ok, quella è la mappa Dopo Prima, quello è l'uccellino lì Il nido del corvo è difettoso, dammi qualcosa per costruire un nuovo nido Un buon nido Un buon nido Ramo, gigante Tieni Usalo Oh va bene Andiamo a cercare Sta mappa Allora lì Vieni più vicino per attivare Ah, lo sta light Niente, niente Vai, vola, vola Caro mio, vola Proviamo a smontarlo un attimo Oh, qua c'è uno squalo Niente Vediamo un po' se c'è qualcosa qua Nell'acqua Buh C'è uno scredito Vediamo un po' Yeah Yeah, 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 yeah Squalo, squalo Non mi prendi, non mi prendi Però non sono volante, mi sa Però Ah, no, no No, è un oggetto Volante Via Che finiamo anche questo livello Consiglio Tieni Mori drago Grande incrinato Hop Poi La, 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 la Tiro io là Allora, buttavo giù Non uscidiamo i ninja così In vano Comunque Mi sbaglio O abbiamo completato? Sì Passiamo al prossimo livello Questo Cascate di anafora Vabbè Cerchiamo di farlo tutto Vediamo Se riusciamo Benvenuto a cascate di anafora O anafora Titanic Sì Allora, tu Non sento i raggi del sole vicino al fiume Crea qualcosa per farmi abbronzare Sole Gigante Spento Sì Sì Se quello lì è spento Uh Ok Tu Ah Non abbiamo la munta Fenice Gigante Rossa Yeah Metti qualcosa tra questi ceppi Per aiutarmi ad attraversare il fiume Autobus No Albero Asser Vabbè ma Albero Pianta Vai No Salta Salta Lo starite Subito Su Su Trasforma un uovo Nuovo Un uomo d'affari in un pescatore Disegnare a pescare a un uomo Vediamo Vediamo cosa c'è Che bel colpentino che hai Quest'uomo sogna di essere un pescatore Per prima cosa Vessero in modo appropriato Pescatore Cano Canottiera Sporca Tipo Estiva Proprio da Ecco Tieni Canottiera Tipo Gire Allora Mettilo Ecco Bravo Sì Proprio quello che ti ho dato Poi deve prendere Del pesce E darle un oggetto per tirarlo su Canna Fumante Pianta Tieni No Canna Legno No ma il bastone Non mi dico che peschi con quella roba lì Canna Da pesca Quella Oh Pesca Oh Quello lì era un bastone Comunque non è una canna I pesci Non abbocano Metti qualcosa che li attiri nell'acqua Oro Quello attira tutti No Mangime Andiamo sul Normale Pane E uno Altro Un po' più grosso Questo E' ora di catturare il pesce arcobaleno Ha davvero un sapore variegato Aha Vieni Ah Fai tutto tu Cos'è uno squalo? Cattura uno squalo di cioccolato Dalli la cena Cioccolato Latte Allora Castoro Appetitoso Mangialo No 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 Ma dai Tutta colpa Ma allora Sì Ma allora Gillette Perché? Prima Gillet Gillet Sotto giacca Tanto si veste come un wall Quindi Ecco Perché devo sempre rifare tutto due volte? Roche Su Via Canna Da Pesca Via Te Aha Aha Sì Pane Ah Ok Altro pane Tieni Prima Mangime Ha dato i suoi frutti Perché? Parco Baleno Pesciolino Eh che diavolo Mangime Eppure prima l'hai mangiato Cosa gli do? Ad avere un sapore variegato Eh cosa gli do? Mortadella Ah ok Perfetto No ma Pesce del Cacchio Mortadella Lui l'hai mangiato Mangiala Non l'hai mangiata? Colorate lucenti Pane Dorato Perché? Mortadella Lucente Questo non capisco Allora adesso Non mettiamo il castoro Pesciolino Mangati il pesce Cioccolato Perfetto Oh forse è finita Yeah Grazie Ma proprio lì devi metterlo No 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 Continuiamo Allora Tu Per favore Rieniscimi Al mio amore Aggettivo Viva Poi Aiutami a riprendere la navigazione Pompiere Monta Smonta Sola mia bella finice Perché ho gli occhiali? Ecco Ecco Dai Dai dei colpi Ah non sono Vabbè Fune Corre Via Giù No Beh Hai ripreso la navigazione No 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 Ok Ok Qui c'è il suo mollo Nuova Funzionante Però Ecco Oh Aiutami a fare una foto a questo abitante del posto Andiamo sul facile Macchina Fotografica Tieni Ok Questo no Sono i gorilla Possono far parte del nostro branco E tu non lo sei Prendiamo il vestito Da Gorilla No Vestito Di gorilla Costume Forse da gorilla Ecco Ok Meglio che deviamo prendere la starlight No No Ok Iniziamo Ogni scimmia ha un oppi Crea un amico che abbia gusti simili per ogni scimmia Comincia creando qualcuno per la scimmia che ama la musica Che ama la musica Rapper Ranger Walker Cantante Ok Alla scimmia volante sono sputante le ali Dopo aver bevuto una pozione Crea qualcuno per questa scimmia magica Einstein Einstein Watson Watson Quello No Strega Buona Demone Demone No Strega Cattiva Allora Creatura Strega Ancantesimo Allora Vai Vola via Questa scimmia esperta di computer Piacciano i videogame Crea un amico per questa scimmia Pac-Man Pec-Am Sì è un frutto il Pec-Am Mario No Videogiocatore Ok Alla matrix Questa scimmia ha anche un cappello da gallo Crea un amico per la scimmia Gallo Minuscolo Arrabbiato Così li uccide Nel buco nero No Questa è stata un po' più Veloce Allora Tu che vuoi Aiutami a digitami con la pittura Pennello Tranquillo Proprio Vai Oh che bel fiorellino Finocchio Allora Ancora tre Da facciamo farle Qua vuoi tu Voglio ballare Ma ci vorrebbe un ritmo Casse Audio Giganti No Audio giganti Gigante Boh No Ehm Andiamo con la stereo Via Ok Che ci fa No no finisce Finisce Ok che devo ancora fare qualche Cause Non c'è più niente Ah c'è bisogno di pesci qua sotto Tu che vuoi Siamo piranha vegetariani Che si mangia Lattuga Oggi lattuga Perfetto Faceri anche tu No C'è ancora uno Però Che non so dove sia Perché vado così piano Oh la sotto No no La mia finisce La mia finisce La mia finisce Allora Non volevo Smonta Allora che devo fare Tesoro apparirà quando si accenderanno le lanterne Le lanterne sono accese Proviamo Asse Di legno Adesso io scrivo legno Mi chiede asse Ah no Che non passe Che non passe No Allora Oh è così 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 Eh però Sono accese No Tesoro apparirà Accettivo Accettivo Accesa Accettivo Accesa Accesa Aelatore Aelatore Oh porca Oh Sto uccidendo tutto Sto uccidendo tutto Meno mai che sono immortale Su Vuota Fammi ricordare Eh 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 Su Vuota Ah ok Perfetto Ok Sto uccidendo tutti Io l'ho completato Quindi Per questo episodio È tutto Commentate Iscrivetevi Un bel mi piace E al prossimo episodio Ciao